Grazie Presidente. È sempre molto istruttivo sentire gli interventi dei colleghi nella materia che stiamo trattando con questa mozione. Io voglio ringraziare i colleghi che l'hanno proposta e concordo con quanto dice il Consigliere Politi che noi dobbiamo dare ai nostri giovani l'idea di libertà e l'idea di democrazia, ma soprattutto noi dobbiamo fare in modo che i nostri giovani sappiano la libertà e la democrazia di cui oggi godono, da dove arrivano e quindi noi siamo estremamente onorati di votare positivamente a questa mozione perché il nostro comune venga iscritto a questa enagrafe antifascista, dei comuni antifascisti di Sant'Anna di Sazema. Quindi noi voteremo sì. Grazie.